Grazie alla collaborazione tra Comune, Dipartimento dei Vigili del Fuoco e Conapo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sarà ricostruito nell'area dell'ex Caserma Rossi, ormai dismessa. Il Comune infatti è pronto a cedere una porzione dell'ex Caserma per realizzare il nuovo comando. Il Sindaco lo ha scritto ieri sera nella sua pagina social e la soluzione individuata mette a tacere i malumori che gli stessi Vigili del Fuoco Aquilani avevano manifestato in merito all'ipotesi di ricollocazione in via Panella. L'orientamento del Comune è stato espresso anche in una recente lettera inviata al Presidente della Provincia Angelo Caruso, nella quale si dice che ritengono superata un'eventuale ricollocazione delle scuole in quell'area. Il Conapo, il Sindacato dei Vigili del Fuoco esulta, in questi anni hanno portato avanti la loro battaglia affinché i Vigili fossero dotati di una sede adeguata. Parlano ora di svolta clamorosa nella tormentata vicenda della sede del Comando, danneggiata dal sisma e demolita, che oggi non ha ancora una collocazione definitiva, dopo che si è deciso di trasferirla da via Pescara in un'area più idonea alle esigenze, ma il sito di via Panella ha sempre visto la contrarietà di sindacati e personale. Intanto, in via Pescara, dove i lavori sono già in corso, sorgerà la sede della direzione regionale che andrà via da Coppito. Gli ultimi anni sono stati pieni di colpi di scena, ma con il rientro del Cotugno a Pettino si sono riaperti degli spiragli. La determinazione di tutti fa incassare un bel risultato. Un progetto, quello di portare il Comando nell'area dell'ex Rossi, che risale al 2019 e che farà sì che tutti i presidi dei Vigili del Fuoco siano peraltro vicini e logisticamente più organizzati. E' una grande vittoria per noi, per il sindacato, ma è una grande vittoria innanzitutto per i Vigili del Fuoco dell'Aquila e poi per la città stessa, perché ricordiamoci che parliamo sempre di un'opera pubblica il cui impatto anche a livello urbanistico sarà certamente importante e quindi la città dell'Aquila che ne beneficerà, oltre ovviamente ai Vigili del Fuoco che in primis ci lavoreranno al suo interno e quindi in termini di operatività sicuramente ne beneficeranno. Siamo riusciti ad ottenere questo risultato importantissimo che la settimana prossima, in occasione di un incontro appositamente convocato tra tutti i soggetti interessati, sarà formalizzato. E' stata dura, è stata una battaglia lunga e dura. A un certo punto pensavamo veramente che non avessimo più possibilità di ottenere questo risultato però per fortuna nei mesi scorsi ci sono state alcune novità che abbiamo prontamente preso al volo, ne abbiamo prontamente approfittato e siamo tornati sul pezzo che in realtà non abbiamo mai mollato.